Il male non avrà l'ultima parola, ma l'amore, la misericordia e il perdono è quanto ha detto Papa Francesco in una breve meditazione al termine della tradizionale Via Crucis al Colosseo nel Venerdì Santo, alla presenza di oltre 40.000 persone. Nella croce ha detto vediamo la mostruosità dell'uomo quando si lascia guidare dal male, ma vediamo anche l'immensità della misericordia di Dio che non ci tratta secondo i nostri peccati, ma secondo appunto la sua misericordia. Di fronte alla croce di Gesù vediamo quasi fino a toccare con le mani quanto siamo amati eternamente. Di fronte alla croce ci sentiamo figli e non cose o oggetti. Ricordiamo i malati, ha detto il Fidel Papa, ricordiamo tutte le persone abbandonate sotto il peso della croce, affinché trovino nella prova della croce la forza della speranza, della speranza della resurrezione e dell'amore di Dio.